I primi quattro italiani lasciano Gaza insieme ad altre decine di persone con doppio passaporto e alcuni feriti hanno varcato il valico di Rafa arrivando in Egitto. Intanto la guerra continua, l'esercito israeliano ormai ha praticamente circondato Gaza. Nuovo bombardamento sul campo, profughi di Jabalia. A Roma pietre d'inciampo imbrattate, ieri sera ed oggi e ieri a Parigi stelle di David disegnate su case e negozi ebrei. Questa mattina nell'area ebraica del cimitero di Vienna, altro scempio, si moltiplicano nel mondo gli episodi di antisemitismo. Era ubriaco e senza patente l'uomo che oggi a Milano ha provocato il tragico incidente stradale che ha costato la vita a due giovani ragazzi. I santi non sono eroi irraggiungibili ma persone come noi, così Papa Francesco nell'Angelus in occasione della solennità di ogni santi a Monza a folla di fedeli per le spoglie di San Gerardo, uno dei patroni della città. Marco Mengoni, ultimo atto, si chiude a Monaco di Baviera, il fortunato tour europeo del cantante italiano vincitore dello scorso Sanremo. Buonasera, benvenuti al TG2000, in primo piano dunque ancora la crisi in Medio Oriente, secondo l'esercito israeliano Gaza è ormai accerchiata, ha bombardato ancora il campo profugo di Jabalia nel nord della Striscia per neutralizzare tunnel di Hamas, numerose le vittime. Massimiliano Cocchi. Le ambulanze non bastano più e allora i feriti vengono caricati sui carretti trainati dagli asini e sui motorini, mentre decine di uomini scavano a mani nude tra le macerie alla ricerca di figli, mogli, genitori, fratelli. A Jabalia, il più grande campo profughi della Striscia di Gaza, non c'è tregua e non c'è pietà. Mentre infatti erano ancora in corso le ricerche dei dispersi attorno all'enorme cratere provocato dal bombardamento di ieri, che ha fatto almeno 50 morti, gli aerei israeliani hanno colpito di nuovo. I palestinesi parlano di decine e decine di vittime e le poche immagini che riescono ad arrivare da un luogo inaccessibile alla stampa e dove internet funziona a singhiozzo, sembrano confermare. È un'altra strage che fa inorridire, di fronte alla quale la reazione dell'ONU è durissima. È un'atrocità, ha dichiarato il capo degli affari umanitari Martin Griffith, denunciando come i combattimenti siano entrati in una fase ancora più terrificante, con conseguenze umanitarie spaventose. Accanto ai bombardamenti prosegue l'offensiva di terra, fanterie e forze speciali con il supporto dei carri armati e dei bulldozer continuano lentamente a stringere l'assedio a Gaza City, scontrandosi con la resistenza di Hamas. L'esercito israeliano ha reso noto di aver perso 15 soldati in battaglia, impossibile dire quanti siano i morti di Hamas. Nel pomeriggio un nuovo lancio di razzi dalla striscia ha fatto suonare le sirene d'allarme a Tel Aviv e in diverse altre località senza gravi conseguenze. Da Doha è tornato intanto a far sentire la sua voce il leader politico di Hamas, Ismail Aniyah, che ha definito l'attacco contro Israele del 7 ottobre una reazione alle politiche del governo Netanyahu e ha ribadito che un cessato il fuoco è la precondizione per arrivare a un accordo sullo scambio tra gli ostaggi israeliani e i detenuti palestinesi. Aniyah ha infine incitato le nazioni arabe e musulmane a continuare le proteste a sostegno della causa palestinese. Nel frattempo a sud della striscia di Gaza è stato aperto dall'Egitto il valico di Rafa non solo per l'ingresso di aiuti umanitari per la prima volta dall'inizio del conflitto via libera a centinaia di persone con doppia cittadinanza e a decine di palestinesi feriti. Fra chi è passato finora anche 4 italiani operatori di ONG. Sentiamo Marino Galdiano. E' un primo piccolo segnale di speranza l'apertura del valico della frontiera di Rafa passano solo coloro che sono su una lista in mano alle autorità circa 500 persone con doppio passaporto o stranieri poco più di 300 quelli che sono già oltre confine fra loro anche 4 italiani volontari di ONG internazionali stanno bene dice la farnesina. No water, no food. E' un cittadino statunitense e racconta che nell'ultimo periodo non c'era né acqua né cibo e nemmeno un posto dove ripararsi. Quest'uomo è Giordano, anche lui rimasto bloccato a Gaza dice di aver perso 76 membri della sua famiglia allargata e che l'ultimo mese è stato indescrivibile. E' la prima volta che si arriva a un accordo di transito dalla striscia di Gaza verso l'Egitto a mediare il Qatar in coordinamento con gli Stati Uniti. Il Cairo, Hamas e Israele hanno accettato le condizioni ma i carri armati egiziani presidiano il valico basta solo chi è autorizzato. Decine di autoambulanze hanno superato il confine egiziano per trasportare un gruppo di 90 feriti palestinesi in ospedale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte che le persone che hanno bisogno di cure sono molto di più e i loro camion con aiuti attendono di passare il valico. Dalla Francia con le stelle di David comparse su case e negozi degli ebrei di Parigi a Roma con l'imbrattamento anche oggi delle pietre d'inciampo in memoria dei deportati fino alle minacce agli studenti di religione ebraica delle università americane. Aumentano i fenomeni di antisemitismo nel mondo legati al conflitto tra Israele e Hamas. Sentiamo Marco Buri. La guerra genera mostri e chi fa la guerra ne approfitta. Il sadismo dei nichilisti di Hamas che il 7 ottobre hanno sequestrato, ammazzato, profanato ha risvegliato negli ebrei lo spettro dell'annientamento. Netanyahu ha subito dato dei nazisti a quelli di Hamas e i suoi uomini hanno ripetuto più volte l'equazione finché l'altro giorno l'ambasciatore israeliano all'ONU, Erdan si è presentato al Consiglio di Sicurezza con la stella gialla e la scritta Mai Più. Rattristato il direttore dello Yad Vashem di Gerusalemme. È un oltraggio sia alle vittime della Shoah sia allo Stato di Israele, ha dichiarato Dani Dayan per il quale oggi gli ebrei non sono alla merce degli altri. Abbiamo uno Stato indipendente con un esercito forte e siamo padroni del nostro destino. Zahal è più che forte, sta polverizzando Gaza e chi rischia di pagare caro sono gli ebrei della diaspora, famiglie e singole persone nel mirino di gruppi jihadisti, vendicatori solitari, imitatori. A Parigi stelle di Davide su case e negozi, incendio e svastiche al cimitero ebraico di Vienna, caccia all'ebreo in Dagestan. Quattro pietre d'inciampo, i blocchetti in memoria dei deportati ad Auschwitz, sono state vandalizzate a Roma, in zona Trastevere. Il presidente della comunità ebraica romana, Fadlun, si augura che non succeda da noi quello che capita altrove in Europa. Situazione delicatissima in Germania, vari gli attacchi antisemiti, ma per una nazione schiacciata dal senso di colpa per l'Olocausto, anche accusare Israele di apartheid è considerato antisemitismo, tanto che è stata vietata una manifestazione di ebrei berlinesi contro la violenza in Medio Oriente. Vietate pure diverse manifestazioni pro-Palestina. La Germania è la comunità palestinese più grande d'Europa, 100.000 persone. Dibattito acceso e scontri negli Stati Uniti, specie nelle università, e si moltiplicano episodi antisemiti, mentre qualche giorno fa centinaia di ebrei pacifisti sono stati arrestati al Campidoglio mentre chiedevano un cessato il fuoco a Gaza. Adesso la guerra in Ucraina. Oltre 100 i villaggi in 10 regioni attaccati nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della guerra mai così tanti in un solo giorno, dice il ministro dell'interno di Kiev. Continua a far discutere lo scherzo telefonico orchestrato da due comici russi ai danni della premier Meloni per farle dire qualcosa contro l'Ucraina. Fabio Bolzetta. Nel mirino delle forze russe, oltre 100 insediamenti colpiti nelle ultime 24 ore in 10 diverse regioni dell'Ucraina. Uno dei bombardamenti di Mosca più massicci dall'inizio dell'anno, secondo il ministro dell'interno ucraino, Igor Klimenko. Un uomo è stato ucciso e tre persone ferite nel centro di Kherson. Attaccata anche una raffineria di petrolio, un colpo strategico alle infrastrutture energetiche in vista dell'inverno, come è avvenuto lo scorso anno. L'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha riconosciuto la mano russa dietro l'attacco missilistico che il 5 ottobre scorso colpì un bar nel villaggio dell'Ucraina orientale di Orroza, uccidendo 59 persone ad un ricevimento funebre. Uno schieramento di 120.000 soldati ucraini è stato dislocato al confine con la Bielorussia, ha denunciato il governo di Minsk. Secondo fonti di intelligence, la Corea del Nord sta rifornendo alla Russia di oltre un milione di proiettili di artiglieria. Intanto imbarazzano il governo italiano per un inganno telefonico ai danni del Presidente del Consiglio, Giorgio Meloni, che attraverso l'ufficio diplomatico di Palazzo Chigi ha dialogato telefonicamente con due comici russi, uno dei quali si era spacciato per il Presidente della Commissione dell'Unione Africana. L'episodio risale al 18 settembre scorso, prima dell'Assemblea delle Nazioni Unite. C'è molta stanchezza da tutte le parti sul conflitto e si avvicina al momento in cui tutti capiranno che abbiamo bisogno di una via d'uscita o alcune idee su come gestire questa situazione, ma aspetto il momento giusto per metterle sul tavolo, ha affermato Meloni. Secondo fonti di Palazzo Chigi, nonostante il tentativo di farle dire frasi scomode, la Premier ha ribadito nella sostanza le posizioni assunte dal governo. In passato, nella rete dei due comici russi, Vofan e Lexus, anche Angela Merkel e la direttrice della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, molto spesso alla ricerca di figure lontane dalla linea della politica estera del Cremlino. Un appello alla pace in Ucraina e in Medio Oriente, arrivato anche da Papa Francesco, nell'Angelus di oggi, solennità di tutti i Santi, che, ha detto il Pontefice, non sono eroi, ma amici fidati. Paolo Fucili. Non dimentichiamo la martoriata ucraina, non dimentichiamo Palestina, non dimentichiamo Israele, non dimentichiamo tante altre regioni. Continuiamo a pregare, esorta Francesco affacciato su Piazza San Pietro per le popolazioni sofferenti per la guerra e pregando, suggerisce, ci fa bene rivolgerci ai Santi, festeggiati tutti, oggi, primo novembre, con appuntamento a mezzogiorno per l'Angelus del Papa. Sento vicini i Santi, parlo con loro, mi rivolgo a loro, conosco la storia di alcuni di essi, ci fa bene conoscere le vite dei Santi e lasciarsi muovere dai loro esempi. I Santi, li descrive Bergoglio, sono ottimi compagni di cordata, sono come fratelli maggiori che ci sostengono e ci correggono se sbagliamo strada. Sono amici sinceri di cui ci possiamo affidare perché loro desiderano il nostro buone. Col battesimo, spiega anche tutti, riceviamo la santità come dono che poi dobbiamo impegnarci a non sprecare e non parliamo, sottolinea il Papa, di eroi irraggiungibili, anzi tutti, sicuramente, ne abbiamo incontrato qualcuno. Quanta persona giusta che vive la vita cristiana sul serio, con semplicità, questo che a me piace chiamare i Santi della Porta Accanto. Cambiamo argomento, grave incidente stradale all'alba di oggi a Milano in Viale Forlanini, coinvolte 12 persone a bordo di tre auto, due le vittime. Alessio Orlandi. Erano di ritorno da una festa di Halloween i due giovani morti questa mattina all'alba in un duplice, terribile incidente stradale in Viale Forlanini a Milano. Tre le auto rimaste coinvolte nello schianto la cui dinamica non è ancora del tutto chiara. Secondo la ricostruzione della polizia locale c'è stato un primo sinistro in cui una Opel su cui viaggiavano una coppia con una bambina di otto anni è stata tamponata a forte velocità da una Golf. Alla guida un trentenne risultato positivo all'alcol test e senza patente. Le persone coinvolte in questo primo scontro sono subito scese dalle vetture per verificare i danni e per mettersi al sicuro quando una Peugeot con a bordo sei giovani tra i 18 e i 26 anni è sopraggiunta a forte velocità schiantandosi contro la Opel ferma lungo la strada che porta all'aeroporto di Linate. Uno schianto tremendo come testimoniato da queste immagini in cui si vede la parte posteriore della Opel completamente accartocciata e quella anteriore della Peugeot distrutta. Il giovane alla guida Luigi Giallonardi 26 anni è morto sul colpo mentre il 24enne Bernardo Pagano che gli sedeva accanto trasportato d'urgenza all'ospedale San Raffaele è deceduto poco dopo l'arrivo in pronto soccorso. Altre due persone sono rimaste ferite e sono state portate al Policlinico e al Niguarda. I vigili urbani per ricostruire quanto successo stanno ora cercando di recuperare anche le immagini di una telecamera installata all'interno di un'area militare dell'aeronautica che ha l'ingresso a poche decine di metri dal punto del primo incidente. La commissione Grandi Rischi ha confermato il livello di allerta giallo per i campi flegrei interessati ormai da settimane da costanti fenomeni di bradisismo e dice il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi sono state già potenziati i normali sistemi di monitoraggio nessun allarmismo ma sempre cautela scrive ancora su X il primo cittadino del capoluogo campano dopo le dichiarazioni del ministro per la protezione civile Nello Musumeci che ieri aveva ipotizzato un aumento del grado di allerta ad Arancione ministro che martedì prossimo incontrerà tutti i sindaci dell'area flegrea. Dopo l'ultima forte ondata di maltempo che ha colpito in particolare il nord si contano i danni soprattutto a Milano dove ieri è esondato il fiume Seveso domani intanto è atteso l'arrivo di un'altra forte perturbazione che porterà piogge e acquazzoni sul centro nord e abbondanti nevicate sulle Alpi Beatrice Bossi Il cielo concede una tregua ma è solo questione di ore sono stati oltre 50 i nubi fragili registrati negli ultimi due giorni lungo tutto lo stivale a farne i conti è stato soprattutto il nord Italia Questo è un intervento realizzato ieri nella provincia di Verona dai vigili del fuoco un uomo rimasto bloccato su un isolotto del fiume Adige viene tratto in salvo dall'elisoccorso con una manovra da fare invidia ad un film d'azione la protezione civile raccomanda prudenza però anche nei prossimi giorni allerta rossa domani in Friuli Venezia Giulia arancione invece per Liguria Toscana ed Emilia Romagna dopo l'esondazione del fiume Seveso Milano è tornata alla normalità ma anche qui l'allerta rimane alta è in arrivo infatti una nuova tempesta atlantica dicono gli esperti si chiama Charan e porterà su bel paese venti freddi e forti piogge almeno per i prossimi dieci giorni dall'altra parte del mondo invece una catastrofe naturale quella che la persistente siccità potrebbe provocare in Amazzonia Letizia Davoli è la nonna siccità più grave della storia dell'Amazzonia il bacino idrico più grande del pianeta che copre un'area di circa 6 milioni di chilometri quadrati abitati da numerose popolazioni indigene che dall'acqua traggono non solo la vita ma costruiscono l'economia e le vie di comunicazione ormai è difficile spostarsi sul fiume dice Alberta Paceco manager della comunità Tumbira e quasi in secche non si riesce ad uscire dal fango senza le vie d'acqua molti bambini non possono più andare a scuola il rio negro il fiume della comunità è sceso ad appena 14 metri impossibile anche la pesca e non solo lungo il fiume anche i laghi infatti sono ridotti a pozze di fango non so quanto potremmo restare qui senza acqua dice questo abitante di una casa galleggiante che si è dovuto costruire un pozzo artigianale da cui ricavare acqua almeno per cucinare ma i pescatori a volte non riescono nemmeno a mettere insieme abbastanza pesce per venderlo e il rischio è un crollo della loro economia i periodi di siccità non sono rari nell'area amazzonica ma questo è uno dei peggiori nato dalla combinazione di due particolari con formazioni atmosferiche del pianeta che stanno prolungando l'assenza di piogge oltre la norma sanno isolati dicono i residenti ma resisteremo finché Dio vorrà una proposta di condivisione di vita rivolta ai giovani liceali e universitari succede nella parrocchia di Santa Giulia a Torino dove le porte sono aperte per un pasto per studiare insieme e per pregare tutto intorno la movida di Torino fra alcol e spesso vuoti di senso Raffaele Furlone la campanella suona il pranzo è pronto i piatti sono in tavola non siamo in una mensa ma in una casa parrocchiale nella parrocchia di Santa Giulia a Torino qui i missionari della Fraternità San Carlo arrivati in città nel 2014 hanno fatto una scelta decisamente non convenzionale abbiamo desiderato subito aprire le porte di casa per far sì che soprattutto i ragazzi giovani scuole superiori universitari potessero vivere con noi proponiamo ai ragazzi due quattro pranzi a settimana in cui possono mangiare con noi c'è un foglio pasto in bacheca durante il pomeriggio dalle tre e mezza in poi la casa si popola di ragazzi delle scuole superiori che vengono a studiare c'è qui dietro una sala ma è dentro la casa parrocchiale poi si fa merenda assieme nella nostra cuscina ci si rilassa sui nostri divani e così abbiamo aperto le porte di casa vita comune ti permette un'educazione più capillare una proposta di condivisione di vita fatta ad una generazione che soffre le fatiche della vita contemporanea fatta di ansie aspettative paure in un quartiere centrale ma che la sera si popola di quella movida fatta di alcol e di spaccio una cosa proprio surreale perché tu sei in oratorio sei con tutti i tuoi amici sei con anche i ragazzi più piccoli giochiamo facciamo cose semplici poi si esce e si vede soltanto gente ubriaca gente che proprio si vede che è vuota ho incontrato proprio una realtà che mi ha accolto dal primo momento quindi questo mi ha fatto restare poi io prima magari lo studio ce l'avevo un po' pesante perché non avevo dei punti di riferimento ho incontrato questa comunità semplicemente venendo qui a messa seguendo anche un po' il carisma che condividiamo e sono rimasto qui perché qui ho trovato una casa bonus trasporti al via dalle 8 del mattino di oggi il click day sul portale del ministero del lavoro l'incentivo è destinato a coloro che hanno un reddito inferiore ai 20.000 euro annui e consiste in un voucher per un massimo di 60 euro da utilizzare per acquistare un abbonamento mensile o per più mesi per i mezzi del trasporto pubblico il bonus potrà essere richiesto fino al 31 dicembre prossimo accedendo alla piattaforma dedicata con speed o carta di identità elettronica nel primo giorno emessi quasi 577.000 bonus e oggi primo novembre festa di ogni santi nelle parole del biblista della corte raccolte da Gennaro Ferrara il senso di questa memoria nei nostri giorni ascoltiamo è una festa molto bella di sale al nonno secolo praticamente vuole celebrare tutti quei santi che non sono sugli altari non sono riconosciuti perché in un certo senso la festa vuole ricordarci a tutti quanti noi che il santo è un uomo una donna realizzato che si è veramente umanizzato perché come dico spesso gli umani non si nasce umani si diventa i santi sono davvero uomini e donne che hanno realizzato quell'immagine che Dio ci ha fatto come dono e quella somiglianza che dobbiamo costruire nella responsabilità e nella libertà cosa hanno da dire alla nostra fede? dicono innanzitutto che la vita è un cammino e quindi che ognuno di noi deve costruirsi giorno per giorno rispondendo a quel dono che Dio ci ha fatto non solo con la vita ma poi inserendoci in Cristo per noi cristiani noi siamo stati inseriti in Cristo appunto per diventare veri uomini perché il concilio ce lo ricorda Cristo è il vero uomo e lui lo diventiamo anche noi e a Monza un vero bagno di folla un po' a sorpresa per le reliquie di San Gerardo patrono della città insieme a San Giovanni Battista esposte nell'ospedale a lui intitolato Antonella Mitola sono tornate a casa nell'ospedale da lui fondato nel 1174 che ancora porta il suo nome le reliquie di San Gerardo dei Tintori un laico di famiglia benestante che in pieno medioevo in un momento storico segnato da gravi povertà epidemie e guerre dedicò la sua vita alla cura dei malati e degli indigenti era un semplice laico un semplice credente che però ha testimoniato l'amore di Gesù in maniera fattiva con credità vedendo i bisogni del suo tempo e l'altra cosa è proprio che è un santo laico della carità e quindi in un luogo dove anche la professione deve essere a servizio del malato di chi non può di chi non ha i mezzi è molto molto bello Benedetta dal cardinale Angelo Scola l'urna con le spoglie mortali di San Gerardo è stata esposta per la prima volta per due giorni nella cappella del nosocomio monzese dove ha ricevuto l'omaggio devoto dei fedeli dei malati e del personale sanitario dell'ospedale che lavoro nell'ambulatorio ostetrico del San Gerardo di Monza e spesso mi piace dire alle mamme che sono sotto le ali protettrici di San Gerardo San Gerardo per me è proprio una figura diciamo di riferimento ho imparato a conoscerlo magari un pochino più da adulta perché da bambino sai solo che attraversava l'ambro con le ciliegie e non altro però è una figura importantissima per la Monza per la sua storia per la fede un aspetto molto attuale della figura di San Gerardo è proprio il suo modo di farsi prossimo in maniera concreta di guardare i problemi del suo tempo senza girarsi dall'altra parte e torniamo per un momento ancora sullo scenario medio orientale per due aggiornamenti il segretario di Stato americano Blinken domenica prossima 5 novembre si recherà in visita in Turchia paese membro della Nato per un colloquio con il presidente Erdogan che nei giorni scorsi si è dichiarato pro Hamas Hamas che continua inoltre a minacciare Tel Aviv possiamo ripetere l'attacco del 7 ottobre altre due o tre volte per impartire una lezione a Israele dichiarazione di un membro dell'ufficio politico di Hamas Ghazi Ahmad intervistato da una televisione libanese cambiamo argomente parliamo di teatro e inclusione in un progetto del carcere milanese di opera vediamo con Franco Rossi emozioni in opera un progetto unico in Italia che nell'istituto alle porte di Milano ha visto confrontarsi detenuti e persone con disabilità psichiche del centro di urno il camaleonte della fondazione Sacra Famiglia incontrarsi in carcere soprattutto incontrare due realtà che sono di per sé fragili uno si diceva nel corso dello spettacolo no io non sono la mia malattia io non sono il mio reato ecco la diversità non è un limite il fatto di trovarsi in una immediata condizione non è un limite il limite del fisico non deve assolutamente costituire una barriera per la mente la singolare iniziativa ha avuto come obiettivo sottolineare anche il valore della relazione se poi la relazione diventa un parlare di se stessi col proprio cuore allora si diventa grande allora si è felice allora si veramente che si dà valore da una parte o dall'altra il carcere è un centro psichiatrico che apparentemente separati dal mondo esterno hanno messo invece luce con la normalità della sofferenza e dell'ascolto la semplice realtà della vita paradossalmente ciò che sembra normale ciò che sta esterno a queste due istituzioni in realtà è molto più artificiale perché abbiamo pregiudizi abbiamo cliché diversi e quindi non c'è quella spontaneità e quella verità che invece si trova in queste relazioni che abbiamo constatato attraverso persone psichiatriche attraverso detenuti ora la musica si chiude a Monaco di Baviera il fortunato tour europeo di Marco Mengoni Francesco Durante con la sua voce ha incantato il pubblico d'Europa Marco Mengoni che si è esibito nei palazzetti più importanti del continente interpretando oltre ai suoi grandi successi anche La Dernière Chanson versione francese di Due Vite la canzone vincitrice dell'ultimo festival di Sanremo Sono molto contento perché ho studiato francese a scuola per diversi anni e l'ho un po' abbandonato perché comunque ho iniziato a studiare spagnolo e lo sto ritrovando pian piano Tra i brani in scaletta anche Lady B già cantato a Sanremo un inno a cui l'artista attribuisce un preciso significato in questo difficile momento storico Mi piace pensare a questo pezzo come a un messaggio di sicuramente speranza è un messaggio positivo che tutte le atrocità che ci sono in questo momento finiscano totalmente e che si possa risolvere tutto con la parola e che ci si possa comprendere e capire qualunque parte con la musica di Marco Mengoni chiudiamo il nostro telegiornale vi lascio adesso alle previsioni del tempo e alla diretta della Santa Messa prossima edizione del nostro telegiornale come sempre alle 20.30 in punto grazie per averci seguito arrivederci grazie per averci seguito